Cosa è successo? Che l'onorevole Picerno ha detto, beh vi lamentate tanto, ma con 80 euro una famiglia fa la spesa due settimane, è stata molto attaccata per questo, è stata molto attaccata perché hanno detto, beh non ha mai fatto la spesa la Picerno. Un miraggio? Io ho sognato il padre della ballerina, il mio cuoco. 3 litri di latte, baguette, filette di acciuga, fettine scelte, macinato, bocconcini, insalata all'otturino, il saccottino frago, le tortellini addirittura, un vasetto di Nutella, delle marche di biscotti, 8 pacchi di spaghetti pure buoni diciamo, di marca buona. Cannelloni rigati, rigatoni, cannelloni rigati, 6 uova, pennoni, canneroni, carote, salmone, parecchio salmone ha comprato, di nuovo i puster, poi i panini per hot dog, gli hamburger, pollo, spinacina, spinacina, bevande rosse, zucchine sfuse, lo strecchino, pomodoro, conto finale 80 e 0. Grazie.